Ci troviamo davanti a un lago, quello che era conosciuto come Cava Filippi, un luogo riscoperto, risorto dopo oltre 20 anni grazie proprio all'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale di quest'area. Sì, nel senso che quest'area è stata entrata nella disponibilità dell'amministrazione comunale in seguito di una sentenza, una sentenza che è arrivata dopo una causa che vedeva contrapposto il comune e la proprietà di quest'area da molti anni. La sentenza è di primo grado ma già ci consente di poter entrare nell'area e ha consentito soprattutto di poter ripulire tutta l'area, di riportare alla luce il lago che quasi non si vedeva più dalla vegetazione che negli anni era cresciuta. Qual è proprio lo stato dell'arte dei lavori? Allora, ad oggi noi siamo entrati nell'area, ne abbiamo preso quindi possesso e abbiamo ripulito tutte le sponde del lago e l'area di pertinenza di proprietà dell'amministrazione. Oggi da qui in avanti si apre il percorso che dovrà vedere da un lato tutte le verifiche di tipo ambientale sull'area e poi potremo cominciare a ragionare su che destino, su che futuro può avere quest'area. Un parco naturale, un oasi quasi a mio avviso, ma di questo potremo essere più precisi e sapremo meglio rispondere a queste domande una volta terminato il percorso di tutte le verifiche che dobbiamo fare. Chiaramente è presto per sapere le sorti di quest'area, però ecco, c'è una possibilità che possa in qualche modo questo lago avere un legame con una pista ciclabile qui vicino? Sì, la pista ciclabile passa proprio a monte del lago e quindi di quest'area potrebbe essere facilmente collegata. hanno da creare un percorso davvero interessante sia dal punto di vista naturalistico che da quello della mobilità sostenibile. Quindi due aspetti da tenere sicuramente in considerazione. Dall'altro lato, credo che questa prima pulizia dell'area, questa prima riapertura, abbia già ottenuto un risultato. quello di consentire a chi abita nella prossimità di quest'area di avere, come dire, non più davanti a casa vegetazione, rovi e arbusti, ma di avere un'area pulita e quindi con minori problematiche di igienicità e quant'altro.